Ciao amici telespettatori, ci troviamo sempre nella bella rubrica del cerco amici siamo qui a Paceco, naturalmente ci troviamo a marzo del 2021 e oggi sto per intervistare il nostro amico Sebastiano Ciao Sebastiano! Ciao, ciao! Come va? A posto, a posto! Allora Sebastiano, io ti ho intervistato a te, penso, più di dieci anni fa ti ricordi nella prima intervista? Sì, 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 mi ricordo, mi ricordo, mi ricordo Allora, che cosa è cambiato da questi dieci anni a venire qua? Che cosa è cambiato? A parte naturalmente la nostra pandemia che ci ha fatto compagnia in questi anni Che cosa è cambiato? È stato un po' turbato Sì Questo Sai I carabinieri Purtroppo problemi che si sosseguono negli anni Sì, sì Va bene, Sebastiano, come passa il tempo nella giornata? Come passo? Vengo a casa, vengo qui in piazza Guarda a prendere un caffè Esatto Eh, guarda a prendere un caffè Poi Tutto a posto, tutto a posto Fino a che posso camminare Cammino, lo to sempre Lotto sempre Non mi fermo mai Non mi fermo mai Va bene, Sebastiano, un'altra cosa Quanti anni hai tu? 70 70 Giustamente 70 anni Però, però, li porti bene Ringraziamo di Dio, li porti bene Grazie, grazie Va bene, Sebastiano Amiche delle spettatrici E anche amiche delle spettatori Dico, Sebastiano è qui È una brava persona Per tutti quelli di voi Che lo volessero conoscere personalmente Lo potete trovare qui Sempre, ogni giorno In piazza, qua a Paceco Lui viene Si fa le solite sue passeggiate E si viene a mettere qua in panchina A prendersi naturalmente Un po' di questo bel sole siciliano Dico bene, Sebastiano? È un bel giorno Ottimo Va bene Ragazzi Per la rubrica del Cerco Amici Alberto vi saluta E vi saluta naturalmente Amico Sebastiano Ciao ciao Ciao, 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 ciao Ciao, ciao, ciao Ciao, ciao